Signore e signori buonasera, ricordiamo ai nostri ospiti con il secondo servizio di cena che lo spettacolo al teatro Urbino sarà alle ore 19 e 30, 19 e 30 per tutti gli ospiti con il secondo servizio di cena. Questa sera la production di Bordeaux in Magic Moments, da non perdere. Grazie per la vostra cortesa attenzione, vi auguriamo un'eccellente serata a Bordeaux di Costa Magica. Benvenuti, buonsoir, rappeliamo a tutti i passaggi ai francophones con le deuxième servizio di Boudiné che lo spettacolo al teatro Urbino sarà alle ore 19 e 30, 19 e 30 per tutti i passaggi ai francophones con le deuxième servizio di Bordeaux. Questa sera la produzione di Bordeaux in Magic Moments. Grazie per la vostra attenzione, vi auguriamo un'eccellente serata a Bordeaux di Costa Magica. Grazie per la vostra attenzione, vi auguriamo un'eccellente serata a Bordeaux di Costa Magica. Grazie per la vostra attenzione, vi auguriamo un'eccellente serata a Bordeaux di 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 Bordeaux. Grazie per la vostra attenzione, vi auguriamo un'eccellente serata a Bordeaux di 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 Bordeaux. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.